Gennaro di Napoli, atletica leggera, paddle, ma sappiamo anche una grande passione per il golf, visto che ti sei cementato anche in una corsa, quanto chiudere una buca in minor tempo possibile, quanto era il record? Il record è 27 minuti e 9 secondi di un mio cerimo nemico Steve Scott, 1500ista americano, ho fatto 36 minuti e 86 colpi alle rovedine, il golf è il mio grandissimo amore, ma soprattutto è lo sport che mi ha salvato dai guai della tetica leggera. Oggi ti vediamo una racchetta a paddle in un ambiente dove la solidarietà è con la S maiuscola. Sì, io sono uno degli artifici di questo sport qui, quattro anni fa sono partito con i primi tornei benefici di paddle, che sai che io ero un tennista e quindi è esploso questo sport, è esploso il mio circuito e adesso tutti stanno cercando di copiare il mio format, ma sì, quando è per la beneficenza e per la solidarietà va benissimo. Quanto ti ha dato lo sport e quanto può dare? Che consiglio dareste che ci segue? A me lo sport ha dato tanto ma ha tolto di più, sicuramente fare sport è importante perché conoscono persone, ho conosciuto te su un campo da golf, oggi ci troviamo qui a parlare di paddle, sono diventato amico di tutti gli ex calciatori, di tutti gli ex sportivi che sono appassionati o di golf o di tennis o di paddle, quindi sicuramente tanti contatti, la mia più grande soddisfazione sì è quello che ho vinto, ma soprattutto i contatti positivi che ho fatto nell'arco della mia carriera. Ti aspettiamo anche per il prossimo anno perché siamo arrivati a 2.760.000 euro raccolti in questi anni, il traguardo si mette sempre a sticello più in alto. E puntiamo ai 3 milioni allora. Grazie. Grazie.